E va bene, prendila! Non vorrei E purtroppo vi chiedo scusa per questo Ma di più non ho potuto fare Perché Allora, che devo fa' qua? Allora, vediamo come organizzare qua la cosa Eh, non è così easy Ok Cosa abbiamo attivato? Ok Allora Adesso l'arcano problema Il bel problema sarà Eh, quello che vedete È il problema Portare questo avanti In questa maniera Senza, ovviamente, farci Beccare, cioccare Dal tizio Zitto Allora, tu vai Dobbiamo fa' con calma, regà Non dobbiamo fare cose de fretta Perché Se la facciamo de fretta Ci becca Con sti carrellini del Kaiser Allora, quando conviene muoversi No, no, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Che sto a fa' pure io Allora, un attimo Aspettiamo l'altro giro Del tipo Del tipo Eeeh Voila No, 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 no Lascia la cazzarola Ok Con calma Adesso lui si fa un altro giretto Avanti e indietro Io giro quello E Sperando di non Eeeh Diciamo Attrarre troppo Attirare la loro Attenzione Aspetta Fate un altro giro Che se sa mai Che mostra Torna indietro E ceciocca proprio De spalle Mentre Portiamo il carrello A destinazione Ok Perfetto Cioè, perfetto Proprio anti-sgamo Eh, urlalo Urlalo al mondo Che ce l'hai fatta Che ci sono Quelli che Vabbè Cioè, praticamente Ci beccano Se ci vedono Abbiamo distrutto Il mondo E loro Vabbè Non hanno visto niente Però questi Possono essere Dettagli Cioè Abbiamo tirato Un carrello Vabbè Fatemi sapere Nei commenti Se secondo voi È plausibile Una roba del genere Ma Che devo fa? Che poi Tra l'altro Siamo senza Torcina Quindi Senza Torcina È molto Difficile Orientarsi In questo Modo Non è Per niente Easy Oddio Che brutto luogo Ok Allora Con questa scena Di disperazione Ragazzi So che forse È durato poco Il video Però Noi ci lasciamo qui Come al solito Vi invito a iscrivervi al canale A lasciare un bel like A commentare A condividere A attivare la campanina De notifiche Non perdere gli altri video E supportare Serie e canale Vediamo nel prossimo episodio Che cosa accadrà E Ricordatevi Insomma Di seguirci anche su Twitch Il martedì O il giovedì Dalle ore 22.15 Sempre Se tutto va bene Se tutto Perché sta andando Tutto uno schifo Da ieri Anche con le registrazioni Se tutto va bene Saremmo live Nei giorni Che vi ho detto E niente ragazzi Noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti